Anche il ponte di Piavetta chiude. A partire da lunedì prossimo, 12 giugno, il vecchio manufatto che collega Castel San Giovanni alla sponda lombarda del fiume Po sarà chiuso al traffico. A differenza del ponte sul Trebbia, questa chiusura sarà molto più circoscritta. Si tratterà di uno stop di 4 giorni fino a giovedì 15 giugno e solo dalle 8 alle 17. C'è però da scommetterci che i disagi si faranno sentire, viste le migliaia di veicoli che ogni giorno transitano sul vecchio ponte e che ora avranno come alternativa il ponte di Spessa Po. Lo stop è stato disposto dalla provincia di Pavia per consentire sondaggi e prove di verifica. Si tratta forse di test preliminari in vista del passaggio di titolarità del ponte dalla provincia di Pavia ad una società partecipata da ANAS e Regione Lombardia. Questo almeno era stato l'annuncio dato nei mesi scorsi dal presidente della Regione Lombardia Roberto Maroni. Per domani intanto è previsto un tavolo tecnico tra provincia di Pavia e provincia di Piacenza, durante la quale dovrebbero essere forniti ulteriori dettagli.